Per me è una discesa, con orgoglio e grande piacere, perché per un sindaco la discesa dei Candelieri è un momento unico, è un momento in cui si sente tutta la città e uno alla prima discesa capisce cosa significa fare il sindaco. È una discesa particolare perché è una discesa che precede la definizione da parte dell'UNESCO del titolo che noi abbiamo richiesto insieme con altre feste della rete della macchina a spalla che potrebbe portare a dicembre al riconoscimento come patrimonio e materiale dell'umanità della nostra festa. Quindi un riconoscimento che lancerebbe la tradizione della nostra cultura a livello internazionale, ben oltre i confini nazionali. Dalle ceneri, tra virgolette, di un intergremio nato ormai negli anni 70 e quindi composto dai nuovi gremi che partecipavano alla discesa, da quegli anni di polemiche e difficoltà di comprensione tra di noi negli scorsi anni, abbiamo deciso di voltare pagina e tutti insieme, compresi i gremi che non hanno il candeliere, abbiamo deciso di metterci di impegno per formare una nuova associazione che comprende a tutti i gremi della città, non era possibile continuare così separati, divisi e abbiamo deciso di trovare il modo, trovare la strada per stare insieme, per scrivere questo nuovo quaderno o questo nuovo libro dove c'è scritta la storia dei gremi di Sassari.